Assessore Mancusi, PharmaMenu è uno strumento utile, moderno, che la provincia di Salerno ha voluto accompagnare perché la cittadinanza tutta si dotasse di conoscenze ulteriori per assumere un farmaco. Sono molto soddisfatto di questa iniziativa proposta dal dottore Di Novella, denominata PharmaMenu, e mi ha convinto non solo la valenza della stessa, ma anche il fatto che annunciasse un approccio più sicuro degli utenti con l'utilizzo del farmaco. Conoscere nelle famiglie, spero, la valenza di ciascun farmaco e quindi la interazione tra esso e altre cose credo che non sia noto a molti di noi che sono consumatori per ragioni di necessità dei farmaci. Quindi abbiamo sponsorizzato, tra virgolette, molto positivamente questo evento, questa presentazione e crediamo di poterlo con l'assenza del dottore Di Novella tenere pubblicato sul nostro sito. È una banca data di oltre 7.000 farmaci con le interazioni di conseguenza e credo che sia un'utile informazione per migliorare anche la qualità della vita. Era cosa dovuta stare a fianco di un'iniziativa del genere. Mi compiaccio anche del fatto che l'abbia voluto presentare qui in provincia e mi compiaccio anche della considerazione che è stata sponsorizzata e quindi voluta insieme a noi anche dall'ordine dei farmacisti e dall'ordine dei medici. Ci sarà anche una presentazione di uno studio chiaramente più approfondito ad opera di un professore. Quindi abbiamo una valenza scientifica ed una di tipo sociale che era giusto e necessario accompagnare. Dottor Di Novella, lei è l'autore di uno strumento utile, moderno, PharmaMenu, per conoscere cosa non mangiare quando si assume un farmaco. Un lavoro che dura da oltre 5 anni. Sì, PharmaMenu è il primo motore di ricerca al mondo su questa materia. Dice cosa non mangiare quando si assume un farmaco che è peraltro un'informazione non reperibile nei foglietti illustrativi dei farmaci perché le interazioni sono viste un po' come delle coincidenze rare a verificarsi eppure quando lo fanno, quando si innescano queste antipatie tra un farmaco, un alimento e una pianta medicinale possono nascere anche delle situazioni non molto piacevoli. Ad esempio può capitare, non so, che la cipolla potenzi l'effetto dei farmaci usati per il diabete esponendo a pericolose crisi ipoglicemiche o che l'ananas aggrava il rischio di emorragie dei farmaci antinfiammatori, che il latte diminuisca l'efficacia di alcuni antibiotici e così via fino alle 50.000, oltre 50.000 interazioni che sono presenti in PharmaMenu consultabili gratuitamente sul sito www.pharmaMenu.it e informazioni valide non perché le ho fatte io, che alla fine sono un normalissimo studioso che ci ha messo solo 5 anni per farlo, ma sono state validate e valutate dall'Università Federico II di Napoli dal Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali, perché sono 200 lavori scientifici da cui PharmaMenu attinge le informazioni necessarie. È stata anche predisposta una versione internazionale di PharmaMenu in cui sono stati inseriti oltre 70.000 farmaci in commercio in tutto il mondo, dal Canada al Kazakhstan, anche anch'essa consultabile sul sito www.pharmaMenu.it e scaricabile come app sia per Android che per iPhone in tutto il mondo. Lei si propone anche di presentare il progetto agli ospedali della provincia di Salerno? Io, come segno di gratitudine alla mia terra, che oggi mi ha ospitato nel suo salotto più rappresentativo, voglio regalare PharmaMenu agli ospedali della provincia di Salerno, perché l'ospedale è l'unico posto in cui il paziente viene contemporaneamente nutrito e curato. Troppo spesso si sentono, io stesso ho assistito ad errori macroscopici, pazienti reduci da infarto o fibrillazione atriale, quindi trattati con farmaci anticoagulanti a cui viene data per contorno la lattuga, che invece contiene vitamina K, che è un fattore coagulante, che quindi contrasta totalmente con quel farmaco. Ma questo non solo dalle parti nostre, anche a Ravenno, al San Raffaele di Milano. E dare, perciò, regalare PharmaMenu agli ospedali della provincia di Salerno, oltre che per me essere un enorme onore, consentirebbe con questa piccolissima cosa agli ospedali di Salerno di avere una cosa unica al mondo da poter offrire per migliorare la qualità di cura dei pazienti.